usate tanto i video veramente è uno strumento indispensabile perché io da anni che registro i miei lamenti e non sempre adesso è diventato più più normale c'era quella figura la io cosa facevo tante volte mi facevo venire su un ragazzo delle giovanili un allenatore che già era contento perché stava con me e vedeva la prima squadra e quindi potevo dire ripiglio i miei lamenti lo mettevo in un punto alto mettevo sulla gradinata qualcuno che usasse il drone perché tanto ormai ce ne sono abbastanza e avevo un servizio gratis lui era contento perché oltre che allenare la primavera o i ragazzi era là con te creai crei cultura nella tua società perché quando ragionano con la stessa testa anche sotto è una grande roba e ti trovi un lavoro gratis che te serve a te quindi tanto si capisce subito chi a chi non costa fatica e lo fa volentieri c'è quello che magari che non vuoi sapere o perché lavora o perché si sente magari più bravo di te magari forse anche ragione per quante volte capita e invece c'è quello che non vede l'ora di imparare che diventa una spugna e su questo qua devo far leva devo usarlo ma non è un usarlo perché alla fine anche lui cresce e io mi trovo un servizio gratis fondamentale vi racconto un po la storia mia e di vincenzo no perché è un po collegata a quello che ho detto l'ultima volta di magari chiamare qualche ragazzo del settore giovanile qualche allenatore del settore giovanile a darci una mano a riprendere i video perché giustamente io batto molto sul concetto di riprendere però un conto so io che sono professionista che ho quindi me c'è analista che ho collaboratori vari un conto magari chi allena in categorie inferiori e non ha sempre questa opportunità e dicevo che un modo un sistema potrebbe essere quello di parlare un po con gli attori del settore giovanile appunto è creare cioè vedere chi può essere interessato a seguire la squadra nostra e condividere idee e allo stesso tempo dare un servizio ed è quello che un pochino è successo con tra me e vincenzo vincenzo di chiavari io allenavo il lentella quanti anni fa vincenzo 2015 2016 che con vincenzo la nostra collaborazione è nata in questa maniera io vado all'entella quindi 6-7 anni fa avevo una natura in seconda chiamiamolo tradizionale nel senso era un ex mio compagno di squadra quindi ex calciatore ma io a me l'idea di riprendere gli allenamenti ce l'ho sempre avuta l'entella era molto tecnologica già da tempo perché il patron dell'entella è patrona anche di white scout quindi l'idea dei video c'è sempre stata e mi dico appunto se c'era qualcuno che poteva darmi la mano a riprendere tutti gli allenamenti e le partite a grand'angolo che sono le camere tattiche mi sale vincenzo che in quel momento cosa facevi sotto io allenavo l'under 17 perfetto e lavoravi anche e lavoravo anche e quindi mi fanno salire poi stava tutti i giorni con noi ha iniziato anche a cambiarsi inizia a fare con noi il darci la mano a riprendere video da poi dopo diventato il mio collaboratore in stato stabile lui secondo me ha fatto anche una cazzata perché anche lasciato il lavoro e non so se ha fatto bene o no però perché secondo me è sempre un grande rischio eh non glielo chiedo più se ha fatto bene o no ormai si arrangia io l'ho l'avevo sconsigliato a suo tempo di farlo e quindi dai da là insomma è partita sta collaborazione perché però se ti interrompo si dimentica un pezzetto perché ha raccontato più o meno tutto giusto tranne proprio l'inizio qua lo dico per chi ha voglia eccetera un pochino di intraprendenza perché quando io ho conosciuto il mister mister non so se ti ricordi io ero venuto all'acquarone e ti avevo un clicco con l'analisi del frosinone perché voi stavate partendo per frosinone sì da lì che poi il mister ha chiesto alla società mandatemi su uno eccetera questo ragazzo qua mi ha già fatto vedere che sa fare eccetera e quindi da lì però l'iniziativa lì era stata mia sì però non so se ho guardato quel plico ti dico la verità sono andato lì di mia sponte ho detto mi devo presentare con la scusa del del frosinone mi sono presentato gli ho raccontato poi non l'avrà visto il plico sicuro però ciao